I carabinieri della compagnia di Trapani hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un pregiudicato alcamese classe 84. L'uomo sarebbe stato sorpreso a consumare cracca all'interno del bagno di un bar della centralissima via Fardella dopo che avrebbe provato in vano a vendere lo stesso stupefacente ad un dipendente dell'attività commerciale in cambio di un posto appartato dove poter fare uso della sostanza. Il dipendente, a seguito di quanto accaduto e notato il 39enne chiuso in bagno da molti minuti, ha richiesto l'intervento dei militari dell'arma. All'arrivo dei carabinieri l'uomo era ancora all'interno del bagno. La successiva perquisizione personale ha permesso il ritrovamento sulla persona di un ulteriore grammo di sostanza stupefacente che i militari hanno sottoposto a sequestro.